Concluso finalmente il cantiere della Gran Sasso Acqua che ha interessato via Forte Braccio per consentire i lavori di ultimazione dei sottoservizi, la mega opera in centro storico che ha causato non poche difficoltà, soprattutto in quella zona dove ci sono attività commerciali e residenti. È stata una parte dei sottoservizi che ha creato maggiori problemi, ma non per volontà chiaramente della GSA ma per le interferenze di alcune problematiche relative alla sovredendenza in particolare. Abbiamo avuto la fortuna di tirare un po' le somme in quell'area e di definire bene i lavori e quindi questa riapertura sicuramente ci dà gioia, un po' noi che ci dà la soddisfazione di aver terminato il primo stralcio e poi anche per tutte le attività che gli risiedono e mi auguro che possano trarre dei benefici. La buona notizia però è che a breve partiranno anche i lavori del secondo stralcio in tre lotti e in due anni dovrebbe concludersi la realizzazione di questa opera. Innanzitutto va detto che l'interlocuzione col Comune è veramente stata fattiva, collaborativa e questo va dato merito sia ai tecnici del Comune e ai tecnici della nostra Gran Sasso che sono stati sempre disponibili alla risoluzione dei problemi. A breve tra l'altro vi preannuncio che rinizieremo col secondo stralcio con tre lotti a partire da marzo per poi proseguire a giugno e a settembre inizieranno tutti e tre i lotti del secondo stralcio. Il 18 marzo è prevista la riconsegna del secondo lotto, cioè il quarto cosiddetto di San Marciano che era fermo ormai da più di un anno a causa della necessità di risolvere interferenze e prescrizioni che erano state dettate dal Comune per far sì che residenti e commercianti non avessero eccessivi disagi dalle lavorazioni. Quindi è stata redatta una perizia di variante in diminuzione, la galleria sarà adottata soltanto nelle strade più larghe e così insomma potremmo riniziare e portarle a conclusione nel giro di due anni. A giugno dovrebbero iniziare i lavori del primo lotto, cioè il quarto di San Pietro via Roma fino a via 20 settembre che è il lotto più grande da circa 10 milioni di euro e anche per esso è stato adottato un criterio progettuale per risolvere le famose prescrizioni analogo a quello del secondo lotto e i lavori anche in quel caso dovrebbero durare due anni e mezzo. Infine a settembre rinizieranno anche i lavori del terzo lotto, cioè quelli che vanno dalla villa fino a Martini, insomma al depuratore.